Devo dire che sono volati, è stata assolutamente trasformativa, come hai detto, è stata una grande scoperta per me di un nuovo modo di usare le mie pratiche coreografiche, di un nuovo modo di stare sulla scena e di percepire quello che può essere il mio ruolo, come ho già detto anche prima, parlando della conversazione, credo che sia importante in quanto danzatrice cercare di presentare qualcosa, di non rappresentarle, di essere un veicolo empatico per osservare quanto di prezioso c'è nella diversità e nell'accettazione, nello stare insieme, questo è stato il passo più grande per me.